Sono due gli indagati per la morte di Beniamino Tafuri, l'operaio di 40 anni, deceduto al porto di Salerno in seguito a un tragico incidente. Gli agenti della Polizia di Frontiera, guidati dal vicequestore Giuliana Postiglione, hanno notificato gli avvisi di garanzia a un altro addetto dello scalo commerciale nella città da Rechi e al titolare dell'impresa per cui lavorava la vittima. Nel pomeriggio inoltre è stata effettuata l'autopsia da parte del medico legale Giovanni Zotti sul corpo di Tafuri, travolto da un carrello a forchetta. L'uomo è deceduto per lo schiacciamento del fegato.